in un precedente tutorial vi ho fatto vedere come fare i pop corn in un padellino friggendoli con burro adesso vi faccio vedere un nuovo procedimento come farli con aria calda con una macchina che li fa con aria calda sono più sani più leggeri e non hanno né burro né olio bruciato e fanno bene alla salute ecco il pop corn così va bene voglio stare leggero e poi prendono molto qua mi erano avanzati alcuni ecco avviamo la macchina già si sente l'odore a poco corn costato senza l'odore a olio guardate come scoppiano il caldo della macchina sta già riscaldando il cellulare ecco qua la magia del pop corn ecco avviamo la macchina Rende molto, come potete vedere, rende moltissimo, esce tutto dal fuori, è una fazia. Rende molto, ecco qua, ed è caldissimo, si chiude da sola perché si è surriscaldata. Ecco qua, obiettivo raggiunto, io non ci metto né sale né zucchero, è simile al gusto, nel gusto al naturale. E con questo è tutto. Devo andare a vedere la tele, ciao. E spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Arrivederci. 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 Ascoltiate il crepitio, perché è ancora caldo. dai bella bella mia poverina che vuole tanto bene bella candorina che occhi mi sembra che poverina c'ha già le catarate e ha compiuto forse più di dodici anni poverina e sta diventando un po' magra la mia bella cagnolina la mia bella cagnolina poverina la mia bella cagnolina e niente se sta editando un video e mi è venuta è venuta questa questa idea maranza di allungare il video mettendo alla fine la mia cagnolina capito perché dico non voglio fare un video troppo corto bella bella cagnolina guarda guarda che è arrivato qualcuno è arrivato qualcuno e andiamo a vedere chi è arrivato è arrivato qualcuno ecco qua il cagnolino bello il cagnolino bello lui lui è ancora giovane già siete anni si stiracchia ecco bravo bravo cagnolino bello bravo cagnolino fai la nina fai la nanna dormi come si è fumato una canna e allora guarda pietra guarda